Dunque abbiamo titolato questa pubblicazione a teatro. Perché? Perché quando si parla di teatro si parla di vita, quando si parla di un teatro che riapre, di uno spazio teatrale che riapre, si dà vita non soltanto a quello spazio ma a quella comunità, si dà vita al teatro tout court. Dunque la notizia che ci viene da Verona è questa. Ha inaugurato alla sua nuova sede il teatro scientifico teatro laboratorio. Attenzione, quando dico che ci viene da Verona non significa che parliamo di un teatro provinciale, perché il teatro scientifico è a surto livelli nazionali e internazionali nei suoi anni d'oro. Ora è stato ricavato, le immagini ve lo mostreranno tra poco, da una stamperia faticente che con un'opera di riqualificazione, come si suol dire, forse è stata riaperta anche alla comunità, a quella comunità. Anche questo è un aspetto da non sottovalutare. Ma il teatro scientifico di Ezio Maria Caserta, Diana Balkan, ha fatto la storia del teatro in Italia. Da fine anni Sessanta, quando accadeva di ospitare non soltanto miti che erano le prime armi, che poi diventeranno calamorosi, ma anche percorsi di ricerca e di avanguardia. Che se non ci fosse stata la lungimiranza di quell'uomo straordinario, drammaturgo, regista, scrittore, uomo di teatro tucur e a tutto tondo, Ezio Maria Caserta, non avremmo potuto né vedere come spettacoli né risentirne il clangore della ricerca. Ebbene, ci fa piacere che oggi i figli abbiano deciso di riaprire, figli come Isabella, come Luca, perché è variegata la discendenza e anche su vari crinali dello spettacolo. Tra poco sarà con noi la figlia di Ezio Maria e di Diana Balkan, che è Isabella Caserta. Vedremo delle immagini anche storiche dei tanti spettacoli che sono passati. Insomma, rimanete con noi anche dopo la sigla. E allora benvenuta a Isabella Caserta. Teatro lo manteniamo perché è una pubblicazione con l'esclamativo che è ben augurante. Ciao Isa, piacere di rivederti. Ciao, ciao Claudio. Grazie dell'invito. Senti, oggi noi avremmo voluto avere tra di noi anche Luca. Abbiamo tentato disperatamente la connessione, ma è a Roma ed era faticoso, faticoso poterci collegare. Lo abbiamo nell'anima, nel cuore, come è con te anche la tua carissima madre, Iana, e con te, con noi, è sempre Ezio. Ma, bando alle ciance adesso, come sei su al dire, che effetto fa a riapire un teatro storico quale il vostro? Diciamo che è un'esperienza che è stata veramente emozionante. La serata inaugurale, che è stata il 12 maggio, è stata proprio l'apice di un percorso. Questa è la nostra quarta sede, ex balera di periferia di via Scuderlando a Verona, poi ex funicolare, ex arsenale, e adesso approdiamo in questa ex stamperia, che in un restauro che è durato più di un anno e mezzo, abbiamo restituito alla città. E' stato proprio un bagno di folla, è stato proprio un momento di condivisione molto sentito e molto affettuoso di tantissime persone che sono venute e che in questi giorni poi continuano a venire perché è in corso dal 13, cioè già dal giorno dopo l'inaugurazione, e durerà fino al 20, la nona edizione del festival, non c'è differenza, che si svolge proprio lì, al Teatro Laboratorio di Verona, Lunga di Alta Rossa, 22 A. Benissimo, benissimo Isa, hai presentato in un modo stupendo, ma lasciami il compito di farti delle domande, però come non mostrare il lavoro di riqualificazione che avete fatto? Siccome tuo fratello Luca, che è un bravissimo regista, ha montato alcune immagini, magari le vediamo insieme e poi le commentiamo, vediamo se riusciamo a vederle. Grazie a tutti! 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 Devo dire che mi sono commosso nel vedere, ricostruire un teatro e quel teatro laboratorio che ha significato per noi, io ero un critico teatrale allora recitavo anche un pochettino, ha significato tutto, tantissimo. Senti, che effetto fa vederlo rinascere? È così bello mi permetto di dire, è così bello. Beh insomma abbiamo lavorato anche noi in prima persona perché quello spazio che come avete visto era veramente messo male potesse rinascere a nuova vita e quindi è stato un percorso come dicevo prima proprio lungo e sofferto e quindi insomma siamo... Però Isa posso dirti, allora ex balera, ex funicolare, ex arsenale, l'ex stamperia ci sta da Dio nel mondo culturale che voi portate avanti. Senti, adesso io vorrei proporre un altro filmato perché tutti noi ma anche chi ci segue da lontano, lo ebbe per fortuna arriva ovunque, credimi è una grande fortuna poterlo utilizzare, ripercorriamo quel che possiamo ripercorrere di questa storia ma senza soffermarci su quello che vediamo, io intanto lo propongo, ecco, io vorrei che tu ci aiutassi a dire la storia del teatro anche attraverso queste immagini che tipo di storia è stata, perché vale la pena ricordarlo. Vedete quasi sempre tra l'altro ha citato Ezio Maria Caserta perché era il demiurgo, inossidabilmente il demiurgo, foto d'epoca. Ti lascio la parola Isabella. Sì, questo filmato che sta scorrendo ora è il filmato che è stato realizzato proprio con materiali di archivio perché noi siamo anche un archivio storico teatrale con materiali storici di archivio per la festa dei 50 anni del teatro laboratorio. Adesso siamo arrivati già a 55, quasi 56 anni di attività e quindi si possono vedere nelle immagini proprio foto di repertorio dalla fine degli anni 60 e poi si sale. Questi sono proprio il momento dell'avanguardia teatrale di fine anni 60, primi anni 70, in cui il teatro laboratorio sia faceva attività di produzione, cioè che è quello che fa ancora adesso, perché siamo comunque una compagnia stabile di produzione teatrale. Certo, ma di questo da detto. Piuttosto che Benigni, piuttosto che insomma tantissimi altri sul nostro sito www.teatroscientifico.com Navigando e girandolo qui e là si possono un po' leggere notizie relative a tutta la storia e al percorso, a grandissimi artisti che sono passati dal teatro laboratorio, insomma su tutti i libri. E' straordinario. Ma, 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 ecco, certo, ecco, volevo dire, non dimentichiamo questi due filoni straordinari, la ricerca, l'avanguardia, hai citato Barba, hai citato Grotoschi, May Leven e tanti altri, che allora eravamo dei privilegiati a poter vedere a Verona. Io ci ho scritto libri sopra queste storie, Isabella come sai. Poi c'era l'altro bel filone che Ezio Maria Caserta, geniale, veramente, aveva portato in ebulizione fino a farlo pervenire dopo i testi alla scena, e cioè la comedia dell'arte. Sì, la comedia dell'arte, della quale ancora ci occupiamo, perché noi abbiamo una sezione di studio ricerca antropologica sulla comedia dell'arte. I nostri spettacoli di comedia dell'arte sono stati in tournée veramente in ogni dove nel mondo, sia in Europa, ma... Leo, vediamo Leo De Bernardini. Quella era Leo, quella che portava la croce, piccolina. E questa è la storia della regina Rossana e di Rossana, sua figlia. Questo spettacolo è stato invitato da Luca Ronconi alla Biennale di Venezia nel 1975. E quindi sì, perché non dimentichiamo che Ezio e Giovanna si sono conosciuti all'Università di Padova, dove lui era assistente alla Catedra di Historia del Teatro e lei era una giovane studentessa che aveva chiesto una tesi su Jean Genet. Jean Genet era un autore modi e si è riunito quindi il Consiglio di Facoltà per capire se poteva essere discussa una tesi su Genet e alla fine hanno detto di sì, purché fosse discussa in francese. E l'hanno fatta seguire dall'assistente Ezio Maria Caserta e da lì è nata la loro storia d'amore, è nata la tesi su Genet e poi siamo nati io e mio fratello e il teatro scientifico, teatro laboratorio. Allora Isabella, non so se lo sai, ma mentre tuo padre era assistente in quel dipartimento di storia del teatro che andava tra Calendoli e Dark Eyes, io frequentavo quelle aule da studente universitario, mi laureerò poi in storia del teatro per lettere e filosofia, lettere moderna e filosofia, e ebbi Ezio che mi dava una mano per poter raccogliere dei frutti. Quante lezioni insieme abbiamo fatto, ricordi straordinari. Poi anche il mio percorso di critico teatrale ha seguito il vostro percorso fino a quando siamo andati insieme in Francia perché Ezio era un ondivago internazionale. Ma adesso, ecco, lo Ezio Maria Caserta è questo che abbiamo visto nel suo Ruzzante, se non ricordo male. Allora, adesso vorrei che però tornassimo noi perché è giusto che tu abbia la possibilità di dire qualche cosa. Allora, intanto, hai parlato di scouting, hai fatto bene a dirlo, però ricordiamo che il teatro scientifico adesso, come lo chiamate? Teatro laboratorio o teatro scientifico? Diciamo che usiamo tutti e due i nomi perché teatro scientifico sarebbe la compagnia e teatro laboratorio l'edificio, ma li uniamo e teatro scientifico e teatro laboratorio. Allora, siccome non dimentico mai di fare il giornalista, voglio ricordare a tutti che siamo nel Lungadigi e Galtarossa 22A, me lo sono scritto appuntato per non sbagliare in indirizzo. Ma volevo dire, ricordiamo che voi siete una struttura stabile di produzione teatrale, riconosciuta dal Ministero della Cultura, ancora oggi riconosciuta dopo il Repulisti, forse obbligatorio e ben voluto da molti, rispetto a quello che c'era e che ancora c'era di più. A questo punto, come orientate adesso il vostro lavoro, Isabella? Allora, noi continuiamo nella ricerca e a lavorare soprattutto sulla drammaturgia contemporanea, il teatro civile, sociale e di comunità, in cui in questi giorni proprio è in corso il festival, non c'è differenza. Spesso lavoriamo in size specific e continuiamo il filone della ricerca antropologica sulla commedia dell'arte. Organizziamo rassegne, organizziamo eventi e attività di formazione che c'è sempre stata, insomma, fin dagli inizi. Luca dirige la sezione cinema con la sua casa di produzione, che è nuove officine cinematografiche. E poi gestiamo l'archivio del teatro scientifico, teatro laboratorio. Diciamo che abbiamo più strade. Tenterete anche di rimettere in sesto una scuola di teatro che manca in questa nostra città, seria, che sia seria? Guarda, adesso, insomma, diciamo che siamo... Eh, vabbè, vabbè, poi c'è un progetto, poi c'è un progetto. Adesso ci sono naturalmente sempre laboratori di formazione, in questo momento c'è un laboratorio per over 65 e ne è appena finito uno che era per adolescenti. Quindi diciamo che i percorsi di formazione sono spesso portati avanti anche da registi e formatori esterni che noi facciamo arrivare a Verona e che tengono anche seminari, che possono durare un mese. Può essere questa la strada. È stato uno che è durato un mese con il grandissimo Lindsay Camp, che ha lavorato con noi sia nel 2013 che nel 2016. Era un corso di alta formazione per attori già diplomati. In altre occasioni ci sono venuti altri registi o altri formatori. Quindi organizziamo anche cose di questo tipo. Certo. Questa può essere una strada bella da perseguire. Voi avete tutti i numeri e i credit per poterla affrontare bene. Abbiamo detto, e torniamo a fare il nostro mestiere di giornalisti, abbiamo detto che è in corso il festival Non c'è differenza, di cui abbiamo avuto occasione di parlare anche in altra sede, che era allora radiofonica, e per il quale vi ho detto quanto sia una straordinaria intrapresa questa. Non c'è differenza di che cosa parla e che cosa propone quest'anno? È un festival dedicato all'altro da sé, per una cultura del rispetto e dell'inclusione. È un festival che ho fortemente voluto e creato nel 2014, che quest'anno è alla non edizione. Si compone di laboratori di formazione, proiezioni, spettacoli teatrali, incontri, giornate di condivisione. Diciamo che mirano all'abbattimento delle barriere fisiche, ma in particolare delle barriere mentali. Quindi la differenza è declinata a 360 gradi. Abbattimento delle barriere anche nel prezzo, perché ricordiamo che gli spettacoli al festival non c'è differenza, le proiezioni hanno il biglietto al costo simbolico di un solo euro, perché chiunque possa permettersi di venire a teatro per tutta la durata del festival. E tutti gli altri incontri sono a ingresso libero. Ci dai idea di qualche proposta all'interno del festival? Allora, il festival è cominciato sabato con un laboratorio di Dancewell, poi c'è stato il debutto di una nostra produzione con in scena un'attrice sorda ed è un libro adattamento di Giorni Felici di Beckett, dove siamo in scena io e lei, io le do la voce. E poi la domenica è stata dedicata ai più piccini. Ieri è stata una giornata in collaborazione con Ronda della Carità di Verona, in cui c'è stata la mostra di un artista di strada che si chiama Lucio Sartori, e poi a seguire delle testimonianze di ragazzi che sono in qualche modo legati alla Ronda della Carità. Va bene, dimmi soltanto quando conclude, Isabella. Allora, conclude sabato 20 con uno spettacolo dedicato a Falcone e Borsellino. Il giorno prima c'è lettera a una professoressa da Don Milani. Questa sera c'è un concerto al buio, insomma ci sono molti appuntamenti. Senti, mi ero appuntato altri nomi che non posso non citare tra quelli gloriosi arrivati. Prima ne abbiamo detti alcuni, ma se vedo Carmelo Bene, vedo Pippo del Bono, vedo Salvatores, Paolo Poli, come dimenticare Paolo Poli al teatro laboratorio, Elio De Capitani, Lodi in Theater, insomma questa era la grande strada, un'autostrada che Ezio ha aperto. E sappiamo che l'ha aperta questa strada e poi piastrellata anche con delle difficoltà. C'è stato anche un incendio che è stato appurato a essere doloso. Vi aiutano adesso, l'amministrazione vi aiuta? C'è qualcuno che vi dà una mano per andare avanti, Isabella? Beh, diciamo che questa quarta sede è una sede completamente indipendente perché le prime tre volte avevamo ristrutturato dei beni pubblici diroccati. Ed è andata a finire come è andata? Lasciare, quindi insomma in questa quarta avventura siamo completamente indipendenti. Si citava l'incendio che è stato un episodio estremamente doloroso perché nel 77, nel dicembre del 77 il teatro che era quello della funicolare in quell'occasione che era stato inaugurato nel 75 è stato devastato da questo incendio e poi nuovamente ricostruito. E questo sì, è stato un episodio veramente drammatico della nostra storia che è costellata di molte gioie e di molte soddisfazioni ma naturalmente di grandissimi dolori sia personali perché ricordiamo che Ezio è stato investito mentre in bicicletta andava in stazione in una sera di luglio per andare a Roma a una riunione dell'Agis e purtroppo ci ha lasciati nel 97 e l'anno scorso abbiamo subito un'altra perdita gravissima che è stata quella di Roberto Vandelli che il 7 maggio dell'anno scorso ci ha improvvisamente lasciati. Io non volevo dirlo l'hai detto tu perché viene in magone solo al pensiero era un amico fraterno come sai va bene senti Isabella guardiamo avanti a questo teatro che ha riaperto mi farò vedere cercherò di stare vicino alle vostre produzioni come posso con questi strumenti che sono gli strumenti dell'oggi e chissà che non ci salti la idea di qualche genialata non alla caserta non arriveremo mai a tanto ma però per contribuire a far sì che si ritorni a parlare del teatro scientifico teatro laboratorio e non soltanto a Verona ma anche a Verona giusto Isabella? Sì beh i nostri spettacoli e le nostre produzioni che naturalmente sono state sempre in essere sono sempre in tournée nazionale quindi insomma i nostri spettacoli con Molly Bloom con la regia di Pierpaolo Sepe dove interpreta Molly siamo abbiamo fatto una lunghissima tournée adesso sono tornata da Firenze da pochi giorni e proprio giusta per l'apertura e per l'inizio del festival quindi sì diciamo che sono 55 anni di lavoro sul territorio ma non solo sul territorio è certo un bacio ti voglio bene grazie grazie mille Claudio ciao ciao a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti